Ben ritrovati dalla redazione di Frontex Multimedia in studio Cesare Martignan. Ecco la situazione del traffico nella rete stradale e autostradale toscana. Nella variante di Valico in direzione Bologna, Traaglio e Firenzola, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria. In Fipili in direzione Livorno tra Ponte della Est e il Bibio Fipili di Ramazione per Pisa, un chilometro di coda per lavori. Per il meteo rischio temporali forti venerdì 24 luglio con allerta gialla a Firenze. Se scatterà le 6, si concluderà le 20 e saranno interessati corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico, in particolare l'EMA, il Mugnone e il Terzolle. Sulla strada statale 130 panoramica di Monte Morello, a Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, senso unico alternato al chilometro 7 per lavori. Per il trasporto pubblico toscano ricordiamo che si può derogare all'obbligo del distanziamento sociale di un metro su tutti i mezzi, mantenendo il limite al 60% della capienza totale e occupando la totalità dei posti a sedere. Movers in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!